La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri ha seguito di una complessa e articolata attività di indagine eseguite dalla dipendente sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza ha individuato una truffa milionaria ad opera di diverse aziende agricole operanti nella Locride. L'attività ha permesso di rilevare l'ennesima truffa ai danni dell'Inps operata da sette aziende agricole di alcuni comuni espromontani denunciando l'impiego di manodopera agricola nei terreni dove dichiaravano di esercitare le attività di culture agrumicole e allevamento su terreni inconsistenti rispetto al numero di lavoratori e la simulazione di rapporti lavorativi fittizi. La truffa veniva perpetrata attraverso la presentazione all'Inps delle denunce mensili da parte delle aziende agricole controllate. L'indagine intrapresa ha permesso di rilevare una truffa ai danni dell'ente previdenziale di 1.445.000 euro e la denuncia di 38.171 giornate lavorative ovviamente fittizie. A conclusione dell'attività d'innagine sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale i titolari di sette aziende agricole e 257 braccianti in concorso tra loro per il reato di truffa aggravata ai danni dell'Inps. Il fenomeno abbastanza noto dei falsi braccianti agricoli sempre in continuo aumento appesantisce il bilancio dell'ente erogatore di prestazioni sociali che si trova a pagare indennità che non sarebbero dovute.